Un'altra notte di paura in via Valiani nella zona industriale di Levane, comune di Bucine. L'incendio è scoppiato all'interno della LEM, azienda confinante con la Valentino Shoes, devastata dal fuoco la scorsa settimana. Le fiamme sono state avvistate intorno alle 20.30. Da 40 minuti la produzione si era fermata. In poco tempo si sono propagate all'interno della struttura, generando un fumo che ben presto si è espanso in tutta la zona creando un'aria. Irrespirabile. La LEM è una galvanica che produce accessori per aziende del settore moda. Una dei fiori all'occhiello del nostro tessuto economico con oltre 200 addetti e con un indotto di altri 200 lavoratori. Dell'incendio della scorsa settimana aveva accusato dei danni che per fortuna vennero limitati dal pronto intervento dei vigili del fuoco. Non ha parlato stamani il titolare che ha delegato il responsabile dell'area comunicazione. L'azienda è un'azienda a conduzione familiare che fa riferimento a Daniele Gualdani e tutti li si sono stretti attorno in questo momento. Qualche persone sono state adesso fermate? Ma in questo momento, siccome le persone in questo momento sono state anche reintrodotte e coinvolte con le altre aziende è difficile, però in questo stabilimento un centinaio di persone ci lavorano, fra persone dirette e indirette. Subito sono a corse squadre da Montevarti a Rezzo e dal vicino distaccamento di Figline. Da Firenze è partito un nucleo NBCR, visto che l'azienda lavora con prodotti chimici. È stato un duro lavoro, ho svolto nel migliore dei modi e basta. Le difficoltà maggiori quali sono state? All'inizio era l'accesso alla fabbrica, il fuoco, il fumo, il fuoco e le sostanze che hanno bruciato. Quindi c'era anche un'emergenza ambientale? Sì, che poi è stata contenuta, quindi non c'è stata nessuna emergenza ambientale. Valdarno 24 e Valdarno 4.